benvenuti in questo corso di wordpress la guida base completa allo sviluppo nella sezione chiamata wordpress template file analizzeremo l'installazione del nostro primo tema e i template file che lo compongono andremo ad analizzare come funzionano questi template file qual è il principale l'index.php e lo style.css i due file necessari per poter fare in modo che wordpress riconosca un tema nel back end poi analizzeremo leader.php il suo utilizzo il footer.php l'importanza di questi file continueremo a dare un'occhiata alla sidebar.php e al file function che sarà quello che ospiterà tutte le nostre funzioni di codice personalizzate successivamente analizzeremo gli altri file che compongono la directory principale del nostro tema e vedremo in che modo con la loro presenza e la loro creazione possibile implementare tutte le funzioni del nostro tema vi lascio dunque alla prima lezione introduttiva di questa sezione vi ricordo che per qualunque problema o domanda potete scrivere nella sezione apposita dedicata sarò felice di rispondervi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti